Buongiorno a tutti 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 di scadere il contratto prima del Covid e rilasciuta. Vediamo il futuro, perché se si vede che il debito è un po' difficile, ma qua è stato contabile. Non dimenticate di like e di subscribe. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A rivolgersi tutte e tre a me, ma... ... No, 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 mette! No! E' un mese che ti dico, io dico due settimane. ... 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.